Allora, noi in Italia abbiamo Belen, grazie Belen, tra noi blogger qui, se stai ascoltando questo video, anche Corona, grazie anche a te, noi dei blogger qui, l'associazione Blogger Italiani, che io sto per fondare, se non già esiste, questa è una parentesi, abbiamo deciso di regalarti tutti quanti un bel panettone, insomma, di quelli di qualità, pregiati che costa un sacco di soldi, per tutto quello che tu fai per noi, perché noi siamo grati verso di te, ti ringraziamo a Belen, Corona, perché ci fate molto parlare, ci fate lavorare, ci fate chiusare, grazie. Noi abbiamo Belen, grazie, Natale, e gli americani ce ne hanno altri, ci hanno per esempio, a parte la Lohan, come si chiama, Linsley Lohan, una delle bonasse tipo Belen, che ne combina tutti i colori, perché si mettono d'accordo, loro c'hanno Bieber, quello col Bieberone, no, a parte Bieberone, in effetti è piccolino sto Bieber, questo è diventato famoso a 15 anni, a 14 anni, vatti a informare, ignorante, come diranno, è diventato famoso a 12, vabbè, insomma, è diventato famoso quando era un teenager, lo è ancora, mi sembra, no? Va bene. Insomma, qual è il gossip ore di oggi? Justin Bieber, papà, a 17 anni? Poi arriveranno l'altri, ma che ci frega a noi che Bieber, abbiamo tanti problemi, eh, giustamente, però qui questi sono famosi, la gente famosa fa notizia, se uno è sfigato come me, non fa notizia, scherzo, sto scherzando, eh, non è così, la verità oggi è il 5 novembre, V come visitante, eh, V come, no, V come visitante. Quindi dicevamo, Justin Bieber, papà a 17 anni, farà il test del DNA per sapere se, per sapere se, eh, no, no, che lui farà il test del DNA, una che è stata con lui, e che si è fatta, insomma, una cosettina con lui, sembra che è rimasta incinta, e quindi mu ha chiesto chissà perché, non se sa perché ha chiesto la prova del DNA, cioè tiene tanto che lui sia il papà che venga comunque riconosciuto, non se sa perché, o forse anche per altri motivi, no, per diventare un po' più, capito, in questo modo qua, comunque, fatto sta, ergo sippone di oggi, è questo, Star Magazine, in America, eh, si parla che una ragazza di 19 anni gli ha chiesto a questo, guarda che tema ha messo incinta, bello, caccia i sordi, riconosci 10 milioni al mese, de che, no, all'anno, al mese, ecco, insomma, ha chiesto questo riconoscimento di paternità, Justin Bieber, quindi lo sippone di oggi, Justin Bieber, e, eh, ricordo, per chiunque, anche gli spettatori che vogliono ringraziare Belen, Corona, di tutte le notizie che ci danno e ci tengono incollati, curiosi, alle loro vicissitudini, di fare una raccolta tutti insieme, eh, per fare un bel regalo a Natale a queste, a questi grandissimi personaggi. Grazie.